La pneumologia sta cambiando, cosa si può fare e cosa già si sta facendo per seguire questa nuova linea? La pneumologia sta cambiando e anche le tecnologie per le patologie respiratorie, per la diagnosi e la terapia delle malattie respiratorie stanno evolvendo molto rapidamente su un campo che, lo si sente tutti i giorni, è sempre più importante, cioè quello delle malattie respiratorie. Sta cambiando e sta diventando sempre più interventistica e quindi la pneumologia interventistica va sicuramente insegnata e la competenza in questo campo diventa sempre più importante. La pneumologia quindi si sta organizzando, si sta organizzando per migliorare anche il training, la formazione per i giovani e anche per quelli meno giovani e quindi cercando di insegnarla in maniera più innovativa e anche più corposa all'interno delle scuole di specializzazione e di fare anche dei corsi supplementari posti a specializzazione come per esempio anche i master universitari per poter perfezionare questa tecnica. Ma si sta facendo ancora di più e oggi l'abbiamo sentito anche durante il congresso che è di altissimo livello e erano presenti i colleghi americani e di altri paesi e tutti si stanno orientando anche verso un miglioramento del training utilizzando nuovi sistemi didattici come per esempio l'aula invertita, dando il materiale a casa ai medici che possano studiarlo migliorando molto l'interattività e soprattutto utilizzando molti sistemi di simulazione cosiddetti low fidelity, manichini per insegnare delle procedure ma anche di high fidelity con la realtà virtuale e ultimamente anche con la realtà aumentata. Quindi essendo sempre nuove tecnologie disponibili non è più sufficiente l'insegnamento che viene fatto nella scuola di specializzazione per quanto si dia più spazio alla problemologia interventistica è quindi necessario continuare anche dopo la specializzazione e quindi insegnando queste nuove tecnologie come per esempio l'ecobroncoscopia l'ecografia toracica, la toracoscopia, la broncoscopia rigida che sono tutte tecnologie, tutte procedure che qualificano lo pneumologo all'interno delle strutture ospedaliere.